Eccomi ancora qui a Shinjuku, sono stato malato per un po' di giorni e io voglio dire che ho avuto 38,6 e ho un po' di influenza ma tutto a posta adesso sono qua a Shinjuku, dicevo davanti a Kinokuniya ho fatto già mille video sia di Shinjuku sia di Kinokuniya però volevo fare questo video per dirvi che se volete che faccio qualche video per voi basta che mi date un video per voi un'indicazione, insomma mi dite cosa fare vedere, che ne so i cellulari che ho, che bla bla bla, quello che volete questa che mi scrivete alla mia email che trovate su www.marcotoni.it e farò il video quanto prima, al prossimo video da Tokyo, ciao ciao